Musica Buongiorno, sono Danna Pietro, esterno dell'Atletic Cicciano Oggi andremo a giocare a Caserta, una trasferta abbastanza difficile ma noi cercheremo di togliere lo zero in classifica e di fare una buona gara Sto da quest'estate a Cicciano, mi trovo bene, ho un ottimo ambiente La settimana prossima inizierà il campionato Minali e speriamo di fare buone cose anche in questo campionato Buongiorno, sono Giuseppe Luciano, sono giocatore dell'Atletic Cicciano da quest'anno faccio parte di questa squadra e mi trovo molto bene Oggi abbiamo una trasferta difficile a Caserta contro la Casertana e spero di fare io un'ottima partita anche alla squadra per muovere la classifica e togliere lo zero Da quest'estate gioco nell'Atletic, l'ambiente mi piace, ho già stretta amicizia con i compagni e mi piace anche come giocano e quindi spero di restare a lungo in questa squadra Con i Minali di quest'anno noi cerchiamo di raggiungere lo stesso traguardo dei Minali dell'anno scorso, vincendo il campionato Ce la metteremo tutta e è già da quest'estate che stiamo allenando per fare questo Buona domenica, buona domenica e forza atletica Buona domenica Buona domenica, buona domenica Buona domenica Buona domenica, buona domenica γοtre vi Lei Raffaele, Raffaele, una mano! Raffaele, Raffaele, Raffaele. Raffaele, 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 Raffaele. Raffaele, 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 Raffaele. 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 Vieni, 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 vieni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.